parole d'ordini di quest'anno e soprattutto anche nei prossimi portabilità semplicità e sicurezza in questo frangente uniswap uno dei più famosi dex ha lanciato anche per ios il suo wallet non custodial per smartphone per permettere ai suoi utenti di acquistare vendere cripto valute interagire con la defa i nft totalmente in modo sicuro semplice e in movimento darà accesso alla defa i sulle reti ovviamente di ethereum polygon arbitrum e optimism ed oltre ad acquistare vendere suo appare interagire con la defa i permetterà per appunto grazie a connet wallet a connettersi in qualsiasi layer 1 e layer 2 in modo veramente semplici e in pochi clic e per un ulteriore livello di sicurezza ma soprattutto di semplicità sarà permesso agli utenti di effettuare i propri backup manualmente oppure tramite e claude avrà una commissione di circa il 2.25 per cento se non vado errato ma poi lo andremo a vedere nel dettaglio rispetto a commissioni ben più alte con acquisto tramite carta e in valute fiat dei wallet concorrenti una volta scaricata e installata l'applicazione sul dispositivo si clicca su get started in questa schermata si può importare un wallet andare a guardare un wallet tramite un address creare un nuovo wallet o fare il restore tramite i claude io vado a creare un nuovo wallet loro in nomino metto il mio nome mauri nella schermata successiva posso scegliere se effettuare un backup tramite i claude manuale oppure in entrambi i casi io per semplicità vado a effettuare e claude backup aggiungo vado a inserire una password spunto la casella e clicco su continua e in questo caso il backup è stato fatto successivamente posso fare anche quello manuale se no clicco su continua vado ad abilitare le notifiche ed accettare la protezione tramite il face id si è abilitato sul nostro dispositivo pochi secondi e siamo pronti per andare a controllare questo nuovo wallet dove potete vedere la schermata in alto il nome codato al wallet il mio quantitativo il controvalore delle cripto in dollari oppure in euro le percentuali di crescita o di diminuzione di valore in base al mercato la possibilità di acquistare cripto valute tramite un servizio esterno che è chiamato moon pay bisogna quindi essere anche registrati a questo servizio ovviamente dove ci permette di acquistare nostre cripto valute direttamente con euro o con le altre valute supportate possiamo poi inviare ovviamente i nostri to che nelle nostre cripto valute riceverle generando il nostro indirizzo andare a gestire i nostri token di nft e anche le attività per andare a vedere tutte le nostre transazioni interessante se clicchiamo su swap possiamo interagire con lo swap proprio come se fossimo su uniswap ovviamente in modo molto semplice un pochino ridimensionato ma in totale portabilità oppure andare a effettuare le nostre ricerche sul web 3 come dice la parola stessa possiamo andare a vedere i nostri token favoriti top token possiamo riorganizzarle come market cap l'incremento nelle 24 ore oppure tvl di uniswap cliccando su un qualsiasi token è possibile effettuare lo swap cliccando sul tastino più possiamo aggiungere wallet differenti possiamo andare a modificare le impostazioni del setting nella nostra applicazione andare a inserire dei feedback contattare il supporto assistenza possiamo andare a connettere tramite la nostra fotocamera a connet wallet per le d'app della defy per quanto riguarda l'acquisto di carta tramite moon pay accetta alcuni tipi di pagamento a seconda della nostra nazionalità abbiamo le carte master car visa maestro apple pay sepa e sepa istantanea per quanto riguarda i pani i paesi con euro in circuito sepa uk faster payment ovviamente solo nel regno unito pics per transazioni che sono derivanti dal brasile yellow card sono transazioni ngn solo per residenti in nigeria per la maggior parte dei token per la maggior parte delle cripto valute c'è un importo minimo di spesa per l'acquisto di 15 dollari con un valore massimo di acquisto di 10 mila dollari se siete interessati all'acquisto di token e cripto valute tramite il portafoglio unisop vi invito preventivamente a registrarvi a moon pay e far approvare i vostri documenti con il car con il classico che essi evitate di tentare di acquistare un token in app senza aver già fatto il procedimento in precedenza della verifica dei documenti perché potrebbe volerci più tempo e il vostro acquisto rimanere anche in sospeso per giorni se siete un utente con coinbase wallet e rainbow wallet oppure metamask tramite l'importazione con la frase di sicurezza potete importare i vostri portafogli che utilizzate normalmente non custodial all'interno del wallet di unisop in pochi e semplici clic come di consueto vi invito a collegarvi sul sito di riferimento in questo caso è wallet punto unisop punto org per andare a eventualmente scannerizzare e avere la possibilità di scaricarlo in sicurezza su app store ma soprattutto per andare a leggere le informazioni e il supporto sia per gli swap sia per gli nft ma soprattutto per l'utilizzo dettagliato cliccando su supporto poi cliccate col tasto adesso del mouse mettete pure la lingua italiana trovate tutte le indicazioni per effettuare gli scambi informazioni sul portafoglio e l'acquisto di cripto valute e reti nft per andare a fornire la liquidità e informazioni generali leggetevi tutte questi piccoli articolini di pochi minuti per avere una panoramica più dettagliata rispetto anche a un video del genere potete direttamente anche contattare l'assistenza cliccando in alto a destra su invia una richiesta oppure cliccando qua in basso sul tastino aiuto bene siamo arrivati alla fine del contenuto fatemi sapere nei commenti se stato utilizzando il portafoglio di uniswap se vi trovate bene avete trovato delle difficoltà o volete un tutorial dedicato non solo per uniswap ma qualsiasi altro argomento del settore cripto e anche a recensioni di piattaforme vi ringrazio per l'attenzione vi invito come sempre a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale lasciandomi un like ed ogni bianca la nostra community telegram trovate tutti i riferimenti in descrizione ad ogni video vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto buona giornata